Oggi più di 4 imballaggi su 5 evitano la discarica. In Europa siamo secondi solo la Germania in termini di riciclo pro capite dei rifiuti di imballaggio. Il risparmio di materia prima, vergine, supera i 4 milioni di tonnellate all'anno. Si tratta di numeri importanti resi possibili da un impegno su più fronti. Fondamentali sono gli interventi a monte per promuovere una filiera innovativa sui temi della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi. Ma indispensabili sono anche le convenzioni con i comuni attraverso lo strumento dell'accordo a quadro ANCI-CONAI che coinvolge più del 92% delle amministrazioni comunali italiane. Dalla sua nascita, del resto, il sistema ha gestito quasi 60 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio a fronte di 6 miliardi di euro di corrispettivi conferiti ai comuni italiani per sostenere l'attività di raccolta differenziata. La collaborazione tra ANCI e CONAI continua a confermare la sua efficacia. Nel 2019 i quantitativi di rifiuti di imballaggio conferite al sistema dai comuni sono cresciuti del 14% e nemmeno il lockdown ha fermato il servizio di raccolta differenziata. Prevediamo di chiudere in rialzo anche quest'anno.